Disney D23, ecco tutti gli annunci fatti da Disney nello scorso weekend. Parliamo di annunci Disney e Pixar. Mettetevi comodi perché qui è lunga. Partiamo con gli annunci Disney, dove la casa di Topolino si sta parando le chiappette per i prossimi anni, realizzando quasi esclusivamente sequel e live action. La parola d'ordine è usato sicuro. Per quanto riguarda i sequel abbiamo Oceania 2 il 27 novembre, Frozen 3 nel 2026, e Zootropolis 2 in uscita a novembre 2025 con un nuovo personaggio, Gary il Serpente, interpretato dal premio Oscar K.U. Kwan. Per i live action abbiamo il primo trailer di Biancaneve, film super atteso nel bene e soprattutto nel male, e posso dire, il trailer non è così malvagio. Nuovo trailer di Mufasa e Re Leone in uscita il 19 dicembre, annunciato in live action di Lilo e Stitch, questo lo attendo tantissimo. Poi il film Monster Jam con Dwayne Johnson, Tron Ares, il nuovo capitolo della saga di Tron con Jared Leto, Jeff Bridges e la colonna sonora fatta dalla band Nine Inch Tales, e in ultima è stato confermato il titolo di Avatar 3, Fuoco e Cenere. Uscita a dicembre 2025, il film approfondirà la tribù del fuoco. Passiamo alle novità Pixar, dove oltre all'annuncio e la conferma di alcuni prodotti nuovi, come il film Helio, la serie Win or Lose e il film Hopper, film su una bambina che scambia la mente con un robot castoro. Anche qui il punto chiave è usato sicuro. Arriva la conferma di Toy Story 5, estate 2026, racconterà dello scontro tra giocattoli e tecnologia. Molto interessante come Incipit. Confermata la serie tv di Inside Out, intitolata Dream Production, in uscita nel 2025, e si svolgerà tra il primo e il secondo film e racconterà degli operatori che si occupano di realizzare i sogni nella mente di Riley. E concludiamo con l'annuncio degli Incredibili 3. Non sappiamo nulla se non il ritorno di Brad Bird alla regia, detto questo, godo. Grazie a tutti.